Salve a tutti venuti in questo nuovo video smr Volevo augurarvi una buonanotte Qua abbiamo il diffusore per l'ambiente che cambia anche il colore Anche fatto così Facciamo questa luce di colore Volevo fare un smr breve Per augurarvi una buonanotte Non molto che non faccio un video smr Però ci tenevo A augurarvi una buona festa E' una dolce notte Poi a più commenti se riuscirò Se vorrete Un video in unboxing Tutto in smr Ora O magari qualche video All'inizio Ora chiudete gli occhi Chiudete gli occhi Chiudete gli occhi Chiudete gli occhi Iniziate A immaginare qualcosa di Molto rilassante Così ci addormenteremo insieme Così ci addormenteremo insieme Iniziate Abbiamo anche iniziato Iniziamo Lo so il soggetto bella sabe Ora conteremo da dieci fino a zero, così io torno immediatamente. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero, da te sogni d'oro e mi raccomando tanti tanti sogni belli. Buona notte, buona notte, buona notte. Grazie. 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 Grazie.